Si è svolta nell'aula a consigliare a Isaia Bonavoglia il convegno Immigrazione e le nuove frontiere, accoglienza, legalità e sicurezza. Per l'occasione è stato presentato anche il libro Il diritto dell'immigrazione, guida aggiornata alla legge 46 del 2017, scritto a quattro mani da Luigi e Antonio Di Muro. A partecipare all'evento, oltre alle autorità locali, Franco Roberti, assessore alla sicurezza della regione Campania. Ebole è una città che vive ogni giorno il tema e il problema dell'immigrazione e cerca di farlo nel modo migliore, con il sostegno della regione naturalmente, ma naturalmente sono gli ebolitani che portano il peso di questo problema. E' un problema grave, di cui bisogna essere consapevoli, che non si risolverà naturalmente a breve, al quale bisogna offrire soluzioni in termini di rispetto della legalità innanzitutto, e quindi anche poi di accoglienza e di integrazione. Cose che qui ad Eboli, a quanto vedo, a quanto costato, si stanno già facendo da tempo, e quindi la città merita tutto il sostegno istituzionale possibile, perché Eboli può diventare addirittura un modello di accoglienza e integrazione, rispetto ad altri luoghi del territorio nazionale e anche della regione Campania. Ma c'è ancora tanto da fare. Il problema vero è la sicurezza, l'emergenza, la sicurezza non sono i flussi migratori, non sono i migranti. Casomai sono coloro che trafficano in esseri umani, quindi sono i trafficanti di esseri umani, quindi la criminalità trasnazionale, le mafie italiane, ma anche e soprattutto le mafie straniere, che sono presenti nel nostro territorio e rappresentano le teste di ponte della criminalità trasnazionale e dedita a questo tipo di traffici, ai traffici di esseri umani. Quindi contrastare sempre più efficacemente la criminalità organizzata e la criminalità straniera significa anche dare un contributo in termini di legalità e di regolamentazione ai flussi di migranti nel nostro paese. Porti aperte, porte chiusi, la regione Campania come si orienta su questo problema? Ma io non farei questa dicotomia porte aperte, porte chiuse, io pongo il principio del rispetto della legalità, quindi porre le regole e farle rispettare, che debbano valere per tutti, italiani e stranieri. Eboli ha circa 5.600 migranti sul territorio, anche le politiche della sicurezza con il vertice in prefettura, insomma massima attenzione? Sì, un numero un po' di meno, quasi 5.400, abbiamo fatto anche delle cancellazioni, quindi siamo il secondo comune della Campania, quindi come maggiore percentuale, questo ci deve far riflettere su un atteggiamento importante di accoglienza, ma contemporaneamente di rispetto della legge e di rispetto anche di quello che sono i requisiti minimi di convivenza che devono esistere nei nostri territori. Il diritto dell'immigrazione è un diritto per l'Italia recente, perché il fenomeno migratorio è un fenomeno che è andato in aumento dagli anni 90 in poi, prima era di poco rilievo, poi man mano è aumentato fino agli ultimi, questo periodo così critico possiamo dire con il nostro sistema anche istituzionale e quindi noi abbiamo cercato di fare un lavoro un po' di ricucitura delle norme, soprattutto sul testo unico numero 286 del 98, che è il testo unico immigrazione, che è la disciplina un poco organica di tutto il sistema, relativamente sia al controllo, all'ingresso, sia al sistema di accoglienza.